Splendida accoglienza in terra toscana, Grosseto, Castiglione, Follonica, 400 persone a metà pomeriggio, Cecina, 600 persone dentro e tante persone che non riuscivano a entrare. A Livorno c'erano i soliti cretini dei centri asociali che non sono contestatori ma sono delinquenti perché quando lanciano oggetti e mettono le mani addosso alle donne, quelli vanno portati via e sono pericolosi. E poi Fucecchio, bellissimo, la terra di Drovontanelli, Gazebo del PD e Gazebo della Lega a poca distanza. Alla Gazebo del PD con il signor Rossi, qualche decina di persone. Il Gazebo della Lega è una marea di gente, commercianti, artigiani, studenti, medici. E Rossi ha detto che non stringe le mani a Salvini, è maleducato. Il signor Rossi, sei maleducato, però di solito chi scappa è perché ha paura. Quindi scappa, scappa e che ti prendiamo? Vengo a Pisa, non vengo a Pisa, ti pare che vengo a Castiglione, a Folonia, a Fugaccia, non vengo a Pisa. Certo che vengo a Pisa, a presto.